Buongiorno agli ascoltatori di Varese Press, siamo col boss dello stock, cos'è questa novità insomma Lombardo? Niente, buongiorno a tutti, noi siamo un centro stock, ritiriamo stock e fallimenti e tutti i prodotti che vengono stoccati e ritirati da vari fallimenti vengono portati all'interno qui e venduti, come vi possiamo far vedere alcuni esempi, per esempio queste sono case italiane di qualità, il prezzo normale vendute in tutti i negozi sono 5,90€, il mio prezzo per tutti i clienti del boss dello stock viene 1€, perciò siamo quasi a un quinto del valore del mercato, poi abbiamo tanti altri articoli come le crocs che tutti voi conoscete, vendute 19€ visto in tv, un prodotto venduto in televisione, da noi solo 3,90€, come tanti e tanti altri prodotti all'interno del nostro negozio, il boss dello stock. Quindi avete anche abbigliamento, magliette, calzature, intimo, uomo, donna, bambino e vari accessori in arrivo quasi tutti i giorni. Quindi prodotti di marca, non sottomarti? Sono prodotti di marca e qualità. Non sono prodotti cinesi? No, noi non abbiamo prodotti cinesi, solo italiani, la maggior parte sono della grande distribuzione come coin, upib, ovs e tante altre macchie. Per esempio le calze a buon prezzo? Per esempio le calze da uomo, puro cotone, il pacco 5 pezzi, normalmente venduti 5€, da me e il boss dello stock è solo 2€. I pedalini della Malerba, che adesso andiamo incontro all'estate e sono ottimi. 3 paia, il pacchetto, anziché 3€, 1,50€. Questo sarà sicuramente uno dei prodotti più richiesti. Poi le magliette, vediamo un po', pantaloni. Qui abbiamo tutti i jeans, tutta merce italiana di qualità, i cartellini poi parlano chiaro. Tutta merce italiana di qualità, venduti a 9,90€, uno per l'altro. Poi abbiamo anche ulteriori sconti, fine serie, tutta merce coin, venduta a 5€ al pezzo, uno per l'altro. Con un giubbotto, avventura. Con un giubbotto in vera pelle, marca Zara Man, venduto normalmente a 89,90€, e da noi 19,90€. Naturalmente parliamo di capi unici, non parliamo di capi che uscendo da qui si trovano negli altri negozi. Assolutamente no. Certo, non lo sto, che chiaro è così. Come occhiali italiani, col marchio UV che è molto importante per gli occhi. Queste per esempio sono del marchio Beffe e vengono venduti a 3€. Primo prezzo a 29€. Come anche la bigiotteria dei marchi ProMod, Zara. Tutta merce con il primo prezzo a 16,95€. Tutta roba dei marchi e supermercati ProMod. Venduta a 5,3€. Quindi riuscite a fare questi prezzi perché ritirate dei fallimenti? E poi i grossi quantitativi. I grossi quantitativi. Ma è una catena o è solo questo punto? Ne abbiamo anche altri in Milano, però questo qua è il centro più grosso. Assumo Lombardo, ricordiamo... In Corsa Europa 52 all'interno del centro commerciale Carrefour Galleria Visconti. Va bene, grazie a tutti. Giuseppe Cliseo, vedete presto.